Il primo volo al mondo di un drone in grado di consegnare sacche di sangue è italiano. La simulazione è avvenuta domenica a Ponte d'Era in provincia di Pisa e la capsula, che può trasportare sangue, emoderivati e anche organi, è partita dall'ospedale Felice Lotti e ha volato per circa un chilometro e mezzo. I tempi di trasporto con questo metodo innovativo ideato dall'AbiZero vengono ridotti da un'ora a dieci minuti. Grazie